Lo shock sul volto dei vertici dell'Associazione Turistica di Bressanone è ancora visibile nonostante sia passata più di una settimana dall'esito del referendum sulla funivia. Risultato inatteso a fronte del quale il presidente dell'Associazione Turistica Marcus Huber aveva deciso di rassegnare le dimissioni. Poi, visto che la misura sarebbe stata letta come una vittoria dal comitato che si è battuto contro la funivia, è stata assunta una decisione che suona come una via di mezzo. Il direttivo si limiterà all'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche in programma il prossimo anno nella speranza che per allora la politica trovi una via di uscita che potrebbe per esempio essere quella di nominare un mediatore capace di riunire attorno al tavolo i due fronti e di convincerli della bontà di una soluzione di compromesso. Sarà molto molto difficile, non ci credo molto, ma sono convinto che si debba fare qualcosa finché non si sa se avrebbe potuto fare la funivia in un altro posto o no. Hanno solo detto delle bugie per fare pressione o ci sono altre possibilità. Se dopo viene veramente fuori, no, si potrebbe fare in un altro sito, allora abbiamo spagliato, non sapevamo e lavoriamo per quella situazione lì. Ma finché non c'è prova contro prova non si può andare dall'ordine del giorno. A Bressanone e dintorni, come si diceva, la tensione rimane alta. In alcune frazioni, come a Sant'Andrea, c'è chi spinge per un clamoroso Los von Brixen. L'idea è quella di tentare la carta impossibile della creazione di una comune a sé. Favorevoli e contrari al progetto Funivia si scontrano quotidianamente. Clima davvero pesante, dicono all'asso albergatori. A Bressanone, questi giovani, è una catastrofe. Lì tengono quelli della montagna, giù con la città, i datori di lavoro. È un casino come mai avuto adesso. Tutti si guardano e tu sei stato favorevole, sei stato contrario. Al momento c'è proprio brutto tempi.